nuovamente agli ordini non start i cavalli della terza corsa del premio londra gentleman al primo nastro arabia jet solo caffa ngtor vincente rodde tuonofezza venti metri zacinto dl asca banfonte alessandro barbasco danigriffe zona jet valido il secondo segnale problemi per ngtor mentre vincente rodde va a condurre seguito da solo caffa che respinge tuonofez costretto ad accodarsi in terza posizione quindi arabia jet dal secondo nastro il più veloce vasco danigrif davanti a zona jet alessandro bar e poi ancora ngtor rimessa zacinto dl e asca banfonte non tarda a progredire uno dei più attesi cioè vasco danigrif che rifà tutto il gruppo e punta con decisione su vincente rodde nel tentativo di togliergli il comando cosa che non riesce per il momento a filippo esposito perché vincente rodde reagisce i 600 iniziali con avvio da fermo in 45 scarso zona jet pronta a prendere la scia di vasco danigrif in corda solo caffa in corda a tuono fezza arabia jet che è in fuori alessandro barra chiudere engi torza cinto dl e asca banfonte schema tattico che non muta convincente rodde vasco danigrif alle prese nei confronti di solo caffa e zona jet ora insiste con decisione vasco danigrif frazione violenta davanti alle tribune gli ultimi 400 metri 29 e 6 con i quali vasco danigrif toglie di forza il comando a vincente rodde ma subito vede gravitare al suo esterno l'altra penalizzata zona jet vasco danigrif in vantaggio zona jet ne prende la scia perché vincente rodde sembra aver speso il meglio solo caffa è riuscito a spostare dalla corda emerge in terza posizione trascinandosi alessandro bar mentre restano all'interno tuono fezz e arabia jet siamo in vista dei 500 finali con vasco danigrif in vantaggio su zona jet solo caffa in terza posizione poi alessandro bardi tra il quale è riuscito a spostarsi tuono fezz e poi ancora vincente rodde e arabia jet retta d'arrivo che vasco danigrif sta per affrontare in vantaggio su zona jet all'esterno della quale muove solo caffa 250 metri al palo vasco danigrif è in vantaggio su solo caffa che rimonta zona getta e si lancia all'inseguimento del leader poi alessandro bar e gli altri vasco danigrif ora comprensibilmente un po stanco e deve guardarsi da solo caffa che è incisivo solo caffa all'attacco di vasco danigrif vasco danigrif all'interno solo caffa a largo che recupera rimonta l'avversario i due in lotta serrata sul palo solo caffa probabilmente stampa vasco danigrif caffa per il terzo potrebbe essere alessandro bar ma aspettiamo le immagini del replay 2 e 31 appena abbondante sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri quindi media intorno all'1 15 e 6 per la probabile vittoria di scusate solo caffa e francesco gargiulo direi che è più che probabile guardando le immagini del replay perché solo caffa rimonta palmo a palmo un poco fortunato vasco danigrif lo stampa per una corta testa vince solo caffa il 2 francesco gargiulo per vitale mattera al posto d'onore vasco danigrif filippo esposito al terzo vediamo scorrere le immagini è proprio alessandro bar in anticipo su zacinto dl dovrebbe essere 298 l'arrivo ufficioso della terza di capannelle linea lo studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti